In mezzo ai fiori, in mezzo alla gente, in mezzo alle persone che ti parlano, ti sorridono, sono naturali, tranquilli, non c'è più paura, distanza, insomma è un po' tornare a vivere tutto sommato. I colori ed i profumi di piante e fiori sono tornati nel centro storico Aretino, portando così una ventata di primavera. Dopo due anni di stop forzato, a causa dell'emergenza sanitaria, è infatti tornata la fiera della Santissima Annunziata. Molto importante, anche perché, insomma, fino adesso, diciamo, la gente è dovuta stare in casa, quindi ha proprio voglia di uscire di colore, di profumi, di primavera. Lungo via Garibaldi, via Portabuia e sino a piazza della Badia, piante e fiori, ma anche abbigliamento e accessori per la casa. Sono circa 50, infatti, gli ambulanti, 13 di questi, vendono fiori e piante. È molto importante, perché qui, diciamo, la Santissima Annunziata a Retson è sempre stata una fiera molto importante, sentita. Due anni di lockdown la gente aspettava di riuscire a vedere un po' di fiori, colori, insomma, di allestire un po' il giardino come una volta, diciamo. C'è molto interesse. C'è molto interesse.